Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore. Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su trovavolantini.it Se vuoi scoprire tutti i segreti dei volantini e fare i tuoi acquisti in modo ancora più consapevole, visita anche il mio blog su trovavolantini. Siete in tantissimi a guardare i nostri video su trovavolantini, ma non tutti ci seguite! Ricordate, iscriversi è gratis, vi basta un click, ma per noi fa una grande differenza. Lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video? Vai in impostazioni e scegli la velocità di riproduzione. Vuoi essere tra i primi a conoscere le offerte più convenienti? Iscriviti al mio canale Telegram e non perderti neanche un'occasione! E tu? In quale negozio vai? Scrivili o nei commenti? Su trovavolantini.it le offerte della tua città a portata di un click! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.